La Juve ha individuato i Copliners l'obiettivo principale vista della prossima stagione. È chiaro che è un obiettivo difficile da raggiungere per tutta una serie di motivi, ha una valutazione in questo momento non da campionato italiano. 60? Sui 60 la prima richiesta, ma io credo che a 50 con bonus, con un pagamento magari non troppo direzionato, nel tempo si può arrivare a una quadra del cerchio, anche perché per Cassi proprio prima della partita contro l'Inter, persa malamente dall'Atalanta, ha anche un po' aperto alla cessione, ha detto sappiamo che il ragazzo ha tante richieste, non è momento di parlarne, ma non ha detto rimane con noi anche nella prossima stagione.